Poracci velocissimo, prima di tutto vi ricordo che stasera proveremo il live Stray, conosciuto anche come il gioco del cyber gattone. Scherzi a parte, questo action adventure è molto particolare e secondo me è uno di quei titoli che vanno scoperti assolutamente. Se siete curiosi di vedere le prime battute del gioco, l'appuntamento è questa sera alle 22 circa sul sito Viola. Non mancate! Intanto torna il TG Poro e torna anche solo risposte sbagliate. Ci eravamo lasciati con il particolarissimo indie Nidhogg che Moss ha riconosciuto prontamente, mentre la risposta peggiore di tutte l'ha data senza ombra di dubbio il buon Manuel. Bravissimo! Questo è il demake per Atari 2600 di Metroid Dread, anche se il vermone finale mi ricorda molto più un boss di Prime. Quindi remake confermato? Lo sapevo. Va bene, andiamo avanti. Di che gioco si tratta? Solo risposte sbagliate, sorprendetemi. Poracci, bentornati o benvenuti su TG Poro, l'unico format di YouTube Italia dove si parla di videogiochi senza mai lamentarsi. Quella di oggi sarà una puntata ricchissima, dobbiamo infatti parlare dell'aggiornamento a sorpresa di Battle League, che riaccende un po' le speranze per quanto riguarda la sopravvivenza del titolo. Discuteremo poi di un gioco Game Boy Advance storico di cui si sta tanto chiacchierando in questi giorni. E infine vedremo anche l'ennesimo fail di Sony sul Plus, accompagnata questa volta da Square Enix. E vi garantisco che la situazione è un vero casino. Prima di iniziare però, come al solito, vi invito ad allacciarvi gli scarpini e a mettervi in marcia, anche abbastanza di forza, verso la conquista non violenta di Internet.com e la fondazione del Poroverso. Lasciate un like, iscrivetevi attivando la campanella delle portifiche e seguitemi su tutti gli altri social. I link li trovate in descrizione. Bene, ho detto tutto, iniziamo! Bene, partiamo da qualche notizia al volo e siccome oggi parleremo della confusione che si è generata intorno al PlayStation Plus, vi segnalo che in realtà l'offerta di questo mese include un gioco in più rispetto a quanto precedentemente annunciato. E purtroppo no, non si tratta né di Dano Crisis, Soul Calibur o Ridge Racer, ma di un titolo molto meno altisonante, Echo Shift. Uscita originariamente nel 2009 in Giappone e l'anno seguente nel resto del mondo e rimasto da sempre esclusiva PSP, questo puzzle game era un po' una via di mezzo tra il concept di Lemmings e i puzzle di Clank in Cracking Time. Certo, un gioco in più non si rifiuta mai, ma la selezione dei classici PSP in particolare potrebbe offrire molto di più, non trovate? Utenti Switch e amanti delle edizioni fisiche potete gioire perché sono qua per annunciarvi l'arrivo di due collectors, niente male davvero. La prima è quella di Oddworld Soulstorm, il remake del 2020 dell'originale PS1 Oddworld Apes Exodus. Io il titolo l'ho giocato grazie al Plus su PlayStation e non è che mi abbia fatto proprio impazzire, perché il titolo PS1 rimane su tutto un altro livello, però l'edizione fisica per Switch di cui non si conosce ancora la data di uscita sembra molto interessante. C'è sia una versione base che comunque contiene degli extra, che una limited audition piena zeppa di roba, tra cui anche il tatuaggio trasferello da farsi sul dorso della mano per dimostrare al mondo intero quanto si è cool. Un capolavoro. E poi finalmente abbiamo anche il primo sguardo sulle varie edizioni fisiche proposte da Limited Run Games per la versione Switch di Doom Eternal. Si va dalla base fino a un mega bundle con tanto di fucile a canne mozze, tutte a prezzi non proprio poracci, in pieno stile LRG. L'unica pecca? Beh, porca miseria, non è incluso DLC in nessuna di queste edizioni, neanche in quelle più costose. Qualcosa mi dice che ce lo venderanno separatamente in un'altra edizione fisica, ma nel frattempo fatemi sapere, voi prenderete una di queste due collectors? Si mette sempre peggio per Advance Wars Reboot Camp, il titolo che ormai mesi e mesi fa doveva portare alla ribalta una grandissima serie nata su Game Boy Advance. Il gioco è stato rimandato in realtà una serie di volte e l'ultima con una data da destinarsi a causa della spiacevole coincidenza tra la guerra in Ucraina e i temi trattati nel gioco. Il problema è che non si sa fino a quando verrà ritenuto indelicato proporre un titolo del genere e per ora, per quanto riguarda una nuova data di pubblicazione, tutto tace da fonti ufficiali. Il gioco rimane previsto per il 2022, ma c'è già qualche segnalazione che fa notare come il pre-order della propria copia fisica sia stato rinviato a febbraio dell'anno prossimo da un rivenditore che di solito ci azzecca con le date di uscita. Lo sapete secondo me qual è il problema? È che magari ora si può anche pubblicare il gioco, ma Nintendo potrebbe effettivamente aver finito gli spazi per il periodo natalizio e a questo punto converrebbe far slittare direttamente al 2023 questo Advance Wars. Secondo voi quando vedremo Reboot Camp? Ma bene, passiamo alle notizie del giorno. Dopo una serie di shorts dove ci siamo lamentati e abbiamo dato per spacciato Mario Strikers Battle League Football, ecco che Nintendo ha pubblicato un aggiornamento a sorpresa che è chiaramente una risposta diretta alle nostre critiche. Ma sicura al 100%, è merito nostro. Lo abbiamo detto più e più volte, il problema principale di Mario Strikers è a livello contenutistico. Si tratta di un gioco che a livello di gameplay propone tanti spunti interessanti per la serie, complicando un'impostazione arcade in modo tutt'altro che scontato. Il problema è che il gioco base ad ora è incompleto e si sente tantissimo la necessità di contenuti aggiuntivi per sperare nella sopravvivenza di un titolo che fa dell'online praticamente la sua unica offerta. Nintendo aveva messo da subito le mani avanti promettendo poco prima dell'uscita l'arrivo di DLC gratuiti, ma fino ad ora non se ne era saputo niente. Oggi la grande N ha rotto il silenzio in modo abbastanza intelligente. Abbiamo quindi il trailer del primo DLC gratuito che sarà disponibile a partire da questo venerdì e che segnerà il ritorno di due volti iconici della serie Strikers, con l'aggiunta di un nuovo stadio e anche di un nuovo set di equipaggiamento. Inserire Daisy era praticamente obbligatorio, viste le incessanti richieste della fanbase, mentre la scelta di Shy Guy è sicuramente meno di impatto, ma anche questa va a recuperare un'icona dei primi Strikers. La cosa più interessante però è la roadmap, ovviamente parziale, Nintendo è sempre Nintendo, che è stata aggiunta in calce al trailer. Per il 2022 sono previsti altri due pacchetti aggiuntivi che, possiamo immaginare, verranno pubblicati uno verso la fine di settembre, magari annunciato durante un direct, e l'altro per fine novembre e inizio dicembre. E sembrerebbe che la struttura sia la stessa per tutti e tre gli update, due personaggi aggiuntivi alla volta, accompagnati da uno stadio e un set di equipaggiamento. Per carità va benissimo così, secondo me però, se vogliono fare le cose fatte veramente bene, possono anche diminuire il numero di personaggi, ma devono incentrare uno dei prossimi due aggiornamenti sull'aggiunta di nuove modalità di gioco e opzioni di personalizzazione. Succederà mai una cosa del genere? Temo proprio di no, ma con Nintendo e Next Level Games, mai dire mai. Voi poracci cosa ne pensate del supporto a Battle League? Ora però dobbiamo fare un salto nel passato perché oggi si è tornato a parlare di una serie dimenticata nel tempo, ma che in realtà si è ritagliata a un posto nel cuore di molti appassionati. Sto parlando dell'iconico JRPG per Game Boy Advance di Camelot, Golden Sun. Che ci crediate o no, proprio l'altro giorno parlavamo di Golden Sun nel gruppo Telegram delle Live, in particolare di quanto i primi due capitoli fossero degli esperimenti estremamente ambiziosi per l'epoca e per la console che li ospitò, e anche del fatto che l'ultimo gioco della trilogia è validissimo ma non se lo è filato nessuno, tanto che ancora oggi è facile recuperarlo a prezzi umani. E proprio perché ormai sappiamo che tutto il mondo Nintendo ruota intorno al poro verso, ecco che dopo decenni di silenzio qualcosa si muove in casa Camelot. La compagnia, la cui produzione sconfinata non si ferma di certo ai Golden Sun, ha aggiornato il suo sito proponendo per la prima volta degli scan ad alta risoluzione degli artwork di due titoli Game Boy Advance che sono sparsi un po' su tutto il portale. Ovviamente questa non è assolutamente una conferma che stiamo per ricevere una remaster, un remake o una collection di Golden Sun, ma secondo me prima o poi il brand salterà nuovamente fuori, chissà in che forma, e questa apparizione mistica chissà potrebbe essere un preludio verso un qualche tipo di celebrazione della serie. Vi ricordate per esempio a febbraio 2021 quando Grezzo, lo studio che si è occupato del remake di Link's Awakening, aveva iniziato a assumere personale per lavorare a un titolo fantasy di stampo medievale? Beh, non è così assurdo pensare a Golden Sun quando vengono tirate fuori queste coordinate stilistiche? Chissà, magari. Voi cosa ne pensate? E chiudiamo poracci con l'ennesimo scandalo, pasticcio, controversia in casa Sony quando si parla di PlayStation Plus. Questa volta i problemi sono immersi con la versione intergrade di Final Fantasy VII Remake, disponibile da oggi all'interno del PlayStation Plus per i tier extra e premium, che non tutti però riescono a scaricare. Allora, la situazione in realtà è un vero bordello, ma direi che a monte c'è una problematica precisa. Square ha fatto un vero casino con le varie versioni del gioco e con i passaggi da edizioni liscia next-gen e contenuti aggiuntivi. Prova a spiegarmi al meglio. Solo chi ha la versione intergrade, cioè quella PS5, può accedere a Intermission, ovvero il DLC con protagonista Yuffie. Chi aveva comprato la versione PS4 base, poteva aggiornare gratuitamente a Intergrade e poi acquistare in un secondo momento il DLC. Il problema nasce nel momento in cui sul Plus, Intermission, ovvero i DLC, viene offerto gratuitamente solo in un bundle con Intergrade. Cosa c'è di male? Beh, che se si possiede già Final Fantasy VII e Intergrade, non si può scaricare questo bundle, perché risulta già in possesso dell'utente e le due versioni next-gen entrano in conflitto tra di loro. Mi piacerebbe dire che è una cosa più semplice da mettere in pratica che da spiegare, ma no, Poracci, è proprio tutto un grandissimo casino. Ad esempio, sapevate che per trasferire i salvataggi della versione PS4 su PS5 non basta utilizzare il cloud, ma bisogna avviare la versione PS4, inviare un save state alla volta alla versione PS5 e poi scaricare dalla seconda versione questi nuovi file? Da file a fail è un attimo e direi che Square Enix e Sony si sono impegnate parecchio per rendere complicatissima una cosa che in realtà poteva essere estremamente semplice. Ripeto, il problema si presenta solo a chi ha già acquistato la versione next-gen, ovvero Intergrade. Io avendo la versione PS4 non ho avuto problemi a riscattare gratuitamente il titolo e basterebbe rendere DLC disponibile sul Plus come elemento separato per risolvere questo casino. Ma in realtà si tratta di un problema noto già dalla prima pubblicazione di Intergrade e Intermission, solo che né Sony né Square si sono prese la briga di prepararsi per l'approdo sul Plus. Insomma, per quanto l'offerta del Plus questo mese sia fenomenale, sono assurdità come queste che, a mio avviso, abbassano di parecchio la qualità del servizio. Non trovate? E questo però c'era tutto per oggi, vi ringrazio per essere arrivati fino in fondo e vi aspetto qua sotto nei commenti per continuare a discutere insieme delle notizie del giorno. Non mi resta che darvi appuntamento a fra pochissimo, in live sul sito Viola, per una live dedicata interamente a Stray, non mancate, mi raccomando, oppure ci vediamo domani con un nuovo video. Voi nel frattempo, mi raccomando, fate i bravi, riposatevi, ma soprattutto nerdate duro. Io sono il Poro Golden, Michele San, ciao! Ehi ehi ehi, fermo, se questo tipo di video ti piace, prendi in considerazione l'idea di supportarmi sul Poreon, il Patreon dei Poracci. Con un piccolo contributo mensile mi può aiutare enormemente a portare avanti i contenuti qua sul canale, e in cambio ricevi anche delle ricompense di tutto rispetto, come retroscena, anteprime e anche live esclusive dove andremo a caccia di retro game. Ti lascio il link in descrizione e ricordati che Poracci si diventa!